anticipo poi scrivi a bene di prima per bastoni entra, tira, ma vado a culo di nero ma io non ce l'ha a dio arriva il corner in area di rigura e prova a prendere Gagliardini poi scrivi ma l'orco guarda, 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 guarda ma forca di quella suciana prova ma forca di quella non guarda guarda, 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 guarda guarda, 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 guarda guarda, guarda, guarda guarda, 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 guard arriva la seconda sconfitta